tg 2000 ore 12 a tutti voi un cordiale buongiorno ecco i titoli principali del nostro giornale indonesia cade un aereo passeggeri della compagnia low cost lionair a bordo 189 persone tra cui un italiano nessuna notizia di eventuali superstiti ma il tempo in italia l'erta rossa per sei regioni decisa la chiusura delle scuole in numerosi comuni brasile vince il candidato populista jair bolsonaro cambieremo il destino del brasile ha detto il neo presidente in apertura quindi la sciagura aerea avvenuta in indonesia un Boeing 737 precipitato in mare pochi minuti dopo il decollo da jakarta a bordo c'erano 189 persone tra cui un italiano sentiamo a morizio di schino l'oceano pacifico sta restituendo i resti del disastro aereo avvenuto questa mattina in indonesia affiorano giubbotti di salvataggio pezzi del velivolo e parte dei corpi delle 189 persone che erano a bordo del Boeing 737 della compagnia indonesiana lionair partito da jakarta alle 6 e 20 ora locale di stamani e mai arrivato all'isola di banca belitung dove era atteso dopo un'ora di volo muhammad sia ugi capo dell'autorità nazionale per la gestione dei disastri ha confermato che a bordo c'erano 179 passeggeri 10 persone dell'equipaggio quindi 189 persone tra cui un italiano e che al momento non sono stati individuati sopravvissuti l'ultimo contatto ricevuto dall'aereo risale a 13 minuti dopo il decollo un pilota aveva chiesto di rientrare a jakarta per un problema tecnico poi il silenzio già ieri domenica lo stesso velivolo della lionair era stato controllato e riparato per un guasto tecnico appena atterrato a jakarta ha riferito oggi in una conferenza stampa eduarda saeed amministratore delegato della compagnia aerea indonesiana quindi secondo lui nulla faceva presagire ad un disastro tra l'altro il boeing precipitato era nuovo aveva cominciato a volare ad agosto ed aveva solo 800 ore di volo inoltre le condizioni del tempo questa mattina erano buone c'era un po di nuvolosità confermato l'agenzia meteorologica indonesiana ma nulla che potesse mettere in pericolo il volo però qualcosa è andato storto e adesso i familiari delle 189 persone a bordo aspettano conferme sulla sorte dei loro cari in italia ora con il maltempo e allerta rossa per sei regioni sono attesi nubi fragi anche violenti da nord a sud il picco tra le 14 e le 17 scuole chiuse in numerosi comuni il punto con barbara masulli è stato inghiottito dal mare il vecchio pontile di rio marina siamo all'isola d'elba è la struttura che vedete in balia delle onde oggi non più utilizzata fino agli anni 80 serviva a caricare sulle navi minerali il vento e il maltempo lo hanno ridotto così la pioggia e le burrasche di queste ore erano state annunciate dalla protezione civile sorvegliato speciale il brembo che ha superato la portata massima anche il serio sempre nel bergamasco e al limite qui siamo a mogliano veneto le raffiche di vento superano i 30 chilometri orari la 22 invece è stata chiusa per il rischio di caduta di un traliccio tutta l'italia in ginocchio la situazione particolarmente delicata in friuli venezia giulia veneto liguria trentino alto adige lombardia e abruzzo ecco l'elenco delle zone in cui le scuole sono rimaste chiuse nella provincia di pordenone di vicenza di venezia ma anche padova belluno treviso alessandria genova la spezia e roma nella capitale è stata la seconda domenica consecutiva di disagi il vento fortissimo ha fatto cadere addirittura gli alberi è successo due passi dal colosseo vicino all'arco di costantino ma come vedete dalle foto anche in altre zone della città queste immagini arrivano invece da genova il video è girato dall'interno di una nave da crociere mostra l'arrivo di una tromba d'aria un'altra tromba d'aria si è abbattuta invece su manduria vicino a taranto e ha provocato il crollo della parte superiore della chiesa di san michele arcangelo siamo alla politica buon avvio delle borse dopo il parziale declassamento della nostra economia da parte dell'agenzia di rating standard and pors governo al lavoro per perfezionare la manovra ma a preoccupare l'esecutivo sono soprattutto le notizie in arrivo dalla puglia c'era grande attesa per l'apertura dei mercati dopo la decisione di standard and pors di confermare il rating dell'italia e di rivedere in ribasso le prospettive sul debito sovrano ebbene la risposta è positiva con piazza affari che guadagna e lo spread che scende sotto i 300 punti buone notizie per il governo nella settimana in cui la manovra tra stasera e domani dovrebbe approdare in Parlamento motivo per cui il presidente del Consiglio Conte ha rinviato di qualche ora la partenza per l'India proprio per seguire fino alle ultime battute e la messa a punto del provvedimento economico la strada comunque è quella tracciata dal trio Savona-Salvini di Maio si va avanti senza modifiche ma il governo è alle prese anche con altre spinose questioni a cominciare dall'Ilva dove è attesa per oggi la pubblicazione dell'elenco dei nomi dei mille lavoratori su circa 1.400 che verranno assunti in allarme soprattutto gli operai dello stabilimento di Genova con sindacati in mobilitazione domani il corteo per le vie della città ma occhi puntati anche sulla Puglia a crucevia della stabilità del governo oltre all'Ilva la questione TAP, il gas d'otto transadriatico dopo la decisione dell'esecutivo di andare avanti vi posso assicurare che non è semplice dover dire che ci sono delle penali per quasi 20 miliardi di euro non avevamo alternative, si giustificano i vertici pentastellati costretti a rimangiarsi le promesse scatenando l'ira della base con proteste e tessere strappate in attacco anche le opposizioni per il PD, il governo Mente non vi erano penali da pagare Abbiamo sentito delle proteste anti TAP un'opera contestata per l'impatto sull'ambiente ma si mette in dubbio anche la sua effettiva utilità ci spiega tutto Federico Plotti Transadriatic Pipeline, il suo acronimo è TAP il gas d'otto transadriatico che dalla Azerbaijan dovrebbe arrivare fino in Puglia 870 chilometri di tubi in acciaio dal Mar Caspio alle coste pugliesi per ridurre la dipendenza energetica dell'Europa dalla Russia e dal colosso Gazprom da cui i paesi dell'Unione, compresa l'Italia acquistano ogni anno oltre 450 miliardi di metri cubi di gas il progetto TAP si inserisce in quello più ampio del cosiddetto corridoio sud del gas sostenuto a gran voce da Bruxelles ma anche dagli Stati Uniti per limitare lo strapotere russo che in fatto di approvvigionamento e distribuzione di gas naturale nel vecchio continente esercita un vero e proprio monopolio dettando regole e stabilendo i prezzi il costo dell'intera opera si aggira intorno ai 4 miliardi e mezzo di euro ed è realizzata da un consorzio di azionisti di cui fanno parte con le quote maggiori l'italiana SNAM, la multinazionale inglese BP e la Zera Socar i primi tubi in acciaio sono stati posati in Turchia, Grecia e Albania tra maggio e dicembre del 2016 non esiste però ancora un termine preciso di fine lavori si pensa comunque al 2020 quando l'intera rete che parte dai gecimenti di gas in Azerbaijan e arriva a Melendugno in provincia di Lecce sbucando dal mare adriatico all'altezza di San Foca dovrebbe essere collegata anche se il progetto è ormai a buon punto è stato completato all'80% secondo quanto si legge sul sito ufficiale del TAP le incognite sono ancora tante in Puglia il movimento not-up è ancora attivissimo protesta contro la realizzazione del gasdotto perché è ritenuto poco strategico e in più deturpa l'ambiente il paesaggio e la vocazione di un territorio la cui economia da sempre si basa sulla natura ci sarebbe anche un italiano tra le persone coinvolte nella tragica vicenda di Desiree Mariottini la sedicenne di Cisterna di Latina trovata morta una settimana fa in uno stabile abbandonato nel quartiere romano di San Lorenzo come riferito da più testimoni infatti sarebbe stato un giovane italiano conosciuto come Marco a fornire agli aguzzini della sedicenne gli psicofarmaci del mix di droghe utilizzato per stordire e poi stuprare Desiree oltre a lui la polizia sta cercando di rintracciare anche altri due stranieri che secondo la versione di uno degli arrestati avrebbero partecipato alla violenza sulla ragazza il candidato populista di estrema destra Jair Bolsonaro ha vinto il ballottaggio delle presidenziali ed è il nuovo presidente del Brasile Marco Burini ha vinto Bolsonaro ha perso Haddad e non solo lui come si sentiranno in queste ore subito dopo le elezioni che hanno consegnato la presidenza al candidato di estrema destra 55,2% contro 44,8% i cittadini brasiliani di origine africana le persone omosessuali le donne queste e altre minoranze sono state più volte minacciate e irrise dall'ex militare nostalgico della dittatura che ha ingabbiato il Brasile dal 1964 al 1984 che usa un linguaggio violento e giustifica la violenza come metodo di lotta contro l'avversario e che ora si trova a dover governare un grande paese praticamente metà del Sud America con 208 milioni di abitanti spaccato confuso a dir poco nervoso l'euforia dei sostenitori di Bolsonaro si mescola allo sgomento degli elettori di Haddad che speravano in una rimonta che non c'è stata come è potuto succedere? da qui al primo gennaio quando Bolsonaro entrerà in carica analisi e commenti si sprecheranno un copione simile a quello di due anni fa quando a vincere e sconvolgere il panorama mondiale fu Donald Trump già Trump un modello per Bolsonaro che condivide parecchie cose con l'inquilino della Casa Bianca che gli ha subito telefonato tutto contento tweet entusiasta anche da Salvini non è un politico in un paese in cui la classe dirigente è uscita a pezzi dall'inchiesta Lava Jato è sostenuto dai grandi poteri finanziari e benedetto dalle chiese pentecostali che vedono in lui il testimonial di una teologia della prosperità che è l'opposto della teologia della liberazione è un maschio di 63 anni che ha puntato tutto sulla rivalsa dei cittadini impauriti e delusi Bolsonaro infatti ha vinto anche perché ha convinto molti che altre volte avevano votato il partito dei lavoratori di Lula ma Lula, ancora molto popolare era fuori gioco in prigione dopo un processo molto controverso e Bolsonaro ha fatto centro grazie a una propaganda tanto rozza Whatsapp più che Facebook quanto efficace e il fatto che avesse un programma di governo a dir poco fumoso non gli è stato d'ostacolo anzi adesso viene il bello si fa per dire messaggio di Papa Francesco per i 30 anni del SIR all'Agenzia Informativa dei Vescovi Italiani un progetto scrive il Papa unico nel suo genere perché rappresenta uno strumento di informazione che collega il territorio italiano rappresentato dai settimanali diocesani al centro e che nello stesso tempo ritorna dal centro al territorio proprio con le testate delle diocesi al Papa si è unito anche il Presidente Mattarella l'irrobustimento delle voci espressive di identità e realtà scrive il Capo dello Stato rappresenta un servizio reso all'intera comunità della Repubblica perché pluralismo e libertà delle opinioni conclude sono condizioni imprescindibili per un paese civile con la messa in San Pietro si è concluso ieri il sinodo dei Vescovi dedicato ai giovani scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto ha detto Francesco rivolgendosi ai giovani Paolo Fucili la fede non è teoria si trasmette non con le prediche ma con la testimonianza anzitutto passando per la vita non per la dottrina o per l'attivismo del fare così Francesco congeda la variegata assemblea sinodale messa ieri a San Pietro a conclusione del sinodo sui giovani che cercano luce come il cieco Bartimeo del Vangelo e trovano spesso promesse fasulle e pochi interessati davvero a loro anche nella chiesa scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto se anziché aprirvi il cuore vi abbiamo riempito le orecchie no alle ricette pronte ammonisce Bergoglio ad etichette e idee nostre spacciate come parola di Gesù l'antidoto è semplice chiediamoci se siamo cristiani capaci di uscire dai nostri circoli per abbracciare quelli che non sono dei nostri e che Dio ardentemente cerca ai giovani è indirizzata anche la lettera dei 268 vescovi ora in viaggio verso casa nei cinque continenti le nostre debolezze non vi scoraggino è scritto quando il mondo è ripiegato sul successo e sul piacere e schiaccia ai più deboli voi aiutatelo a rialzarsi e a rivolgere lo sguardo verso l'amore la bellezza la verità la giustizia perché il mondo e la Chiesa hanno bisogno urgente del vostro entusiasmo ed ecco la videolettra ai giovani dei padri sinodali pubblicata da Vatican News a voi giovani del mondo ci rivolgiamo a noi padri sinodali con una parola di speranza di fiducia di consolazione grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.